Sì, sono carini! Ah, avvicinato! Sono tanti, eh! Cura, chiama tutta la gilda, ora! Tutti su Leo! Tutti su Leo, guarda quanto sono simpaci! Faccio uno scudo! Dietro, dietro, indietreggiamo, raga! Indietreggiamo verso la stellina! Ma che indietreggiamo? Andiamo qua dove ci sono i Sunzu! La stellina! Eh, dove stanno, dove stanno, dove stanno! Dai Sunzu, dai Sunzu! Mettiamola a sinistra, vetti le retrovie di Italian! Guardali qua come ho scoperto, le retrovie! Dai che si isola! Eh, proprio aiutiamo, difendiamo il Lillard, eh! Io cristaccio! Ditti stanchi bellissima! Guarda che scappano, guarda che scappano! Guarda che scappano! Ma come hanno fatto? Guarda che scappano, guarda che scappano! E non cambiano strategia, si dividono in due gli idioti! Ok, ok, dal ponte, dal ponte, raga! Raga, non pushate troppo, eh! Piano piano! Non pushate, perché ci sono quelli che si dividono in due gruppi a quanto ho capito! Uno pusha davanti e l'altro lo backerò dietro! Io ho visto un video che fanno così, quindi se non hanno cambiato le loro tattiche e mi sembrano troppo stupidi per averle cambiate... Fatti zitti un battito a Jolly, se la fa PvP Cristo! Eh, vabbè, dai! Perché mi devo starci? No, ci siamo a concentrare! Aspetta! Ah, scusa! Che buonasera! Che buonasera! Che pierna! Che booster! Ok! PENYWISE! PENYWISE! OOOOH! 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 tenete su sto blackbird guarda come scappano, attenti là ci sono altri rossi però ragazzi non pushate troppo occhio Leo, state delle stelle ragazzi non pushate troppo ci sono gli altri rossi gli abbiamo massacrato mezzo raid in 5 i cazzo sono rotti con io Italian Bastard bella, fate una chiudia e la giudia naturalmente ho registrato tutto raga io a un certo punto mi sono fredrunner guarda come scappano, guarda come scappano mamma mia pushiamo, pushiamo vai abbiamo uno spot gratis thank you Italian Bastard ok ok cazzo ok raga non pushiamo troppo, ritorniamo di su perchè questo non lo posso attaccare perchè questo non lo posso attaccare? ah ok perchè sto overpowered eh perchè siamo entrati in pwe mentre avevamo ancora il trauma ok risaliamo sopra qua siamo isolati, questi tornano raga pensate che non tornano ma non posso usare la skill qua torniamo su, torniamo su, torniamo su un po' di video ok ecco 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 Grazie.